Domani giocare una partita aggressiva, di grande tecnica, di grande concentrazione, come abbiamo fatto per gran parte del campionato. Ci sono anche gli avversari e domani affrontiamo un avversario sicuramente che per le qualità tecniche che ha in questo momento è la scuola più difficile da affrontare. Credo che in questo momento sia bene, i gol dei derby sicuramente li fanno morale, ma soprattutto oltre che i gol dei derby per i gol che ha fatto, credo che Pata abbia giocato una buona partita nei derby e questa è la cosa che mi rende sicuramente più felice, soprattutto perché lui è migliorato molto nel gioco con i compagni, con la squadra e questo aiuta soprattutto a crescere di molto l'intesa con Ibra perché è quello con cui ha giocato meno di tutti. Gli ore secondo lei? Sì, in questo momento la Fiorentina è una delle squadre più informe del campionato, ha dimostrato le ultime prestazioni. Nel male che Muto è un grande giocatore e sicuramente per loro è una perdita importante, però direi che in questo momento noi dobbiamo tenere alta la concentrazione e soprattutto fare una partita di grande intensità. Il gattuso sì è a disposizione, può essere schierato. Alla fine l'importante è che tutti abbiamo un test all'obiettivo finale che è quello dello scudetto e che tutti in questo momento si mettano a disposizione lasciando da parte le priorità singole ma lavorando sui gruppi.